Il senso di questa giornata è quello di individuare possibili strategie nell'utilizzo dei fondi del recovery e quelli dei fondi europei che arriveranno. Viene presentato un rapporto di lavoro complesso che ci dà il senso di un territorio capace di resistere e che si è aggrappato alle maglie dei diversi lockdown che si sono succeduti per ritrovare la propria forza e dimostrare capacità forti di ripresa. È in dubbio però e sarebbe sciocco non considerare che dietro a segnali di ripresa come quelli che vediamo nelle risportazioni, nel numero di assunzioni, si celino poi dei problemi. Siamo qui per individuare tutti assieme questi problemi, individuare le ricette possibili di un percorso che nel prossimo quinquennio ci dovrà accompagnare proprio per rafforzare ancora più questo territorio. Siamo certi che una ricetta c'è, le relazioni che sussistono tra parti sociali, istituzioni e quant'altro, sono l'humus attorno al quale è possibile costruire delle politiche. Queste politiche si chiamano politiche del lavoro, riforma dei centri per l'impiego, nuove politiche della formazione professionale.